Occorre che esso costi. Quanto per servire il buon Dio. E affinché un rimprovero sia efficace, occorre che esso costi a chi lo fa e che non si abbia ombra di passione nel cuore. Perché? Commento. Perché Teresa, da evoluta quale era, aveva compreso che il termine della condizione umana era morire a se stessi. Grazie.